Abbiamo due lunghetti? Ma che cazzo è? Perché? Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info 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 Grazie a tutti. Gira un attimo. Adesso è scattato, c'è il rosso o si? No, c'è anche la ragazza. C'è la quattro cinta. Guarda, amore, c'è la quattro cinta. Poi, da qui in poi, bisogna fare dei valsi. Guarda, amore, c'è la quattro cinta. Sto facendo delle riprese megalattiche. Guarda, amore, c'è la quattro... Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info